Ed è stato rinnovato l'accordo tra CAF e Ascotrade, sconti fino al 12% sul gas per le famiglie in difficoltà economiche. 100 euro in un bilancio familiare in una fase di crisi sono comunque soldi importanti. Rinnovato l'accordo tra i CAF di CGL, Cisle Will e Ascotrade per offrire sconti in bolletta ai clienti in condizioni economiche più disagiate, quelli con ISEE, inferiori a 20.000 euro nel 2014, sconti sui consumi del gas di oltre il 12%. Sarà Ascotrade a comunicare in bolletta la possibilità di ottenere lo sgravio. I clienti a quel punto potranno beneficiarne presentando una domanda dopo aver certificato ai CAF la propria situazione ISEE. Un meccanismo consolidato oltre che conveniente. Che sia consolidato è per venire incontro alle famiglie, questo mi sembra abbastanza logico, in questo momento è di forte difficoltà. Perché è importante? Perché siamo forse, anzi senza il forse, l'unica azienda in Italia che fa questo tipo di provvedimento e quindi va incontro alle famiglie con cose tangibili come quello della scontistica. Per finanziare l'iniziativa Ascotrade stanzierà un investimento complessivo di 1.200.000 euro erogato attraverso uno sconto di 10 centesimi per metro cubo di gas. Si dà benefici consistenti a chi unise sotto i 20.000 euro, stiamo parlando in alcuni casi per una famiglia tipo di risparmio delle 80 e 120 euro. Quindi noi invitiamo tutti i cittadini di rivolgersi ai nostri CAF in modo da poter collere questa opportunità che si è creata da una tradizione di dialogo tra Cigelle e Cisluil e Ascotrade. Grazie a tutti.